Da settembre la piazza Borsa riaprirà, ma aprirà il Salone Borsa. Ci sarà un numero limitato ovviamente di operatori, 70 al massimo, però a ruota entreranno tutti, però per entrarci ci vorrà il CUD. Dopo un anno di chiusura la Borsa Merce di Treviso riaprirà in presenza. Si entrerà solo muniti di Green Pass, gli usceri saranno dotati dell'app per la verifica, della certificazione che sarà richiesta anche in occasione delle riunioni delle commissioni, di conferenze stampa, convegni e seminari con l'obiettivo di una Camera di Commercio Covid Free. Ente camerale che sta già testando l'applicazione Verifica C19. Questo è il Verifica CUD 19, basta puntarlo, quindi avviamo sul CUD ed è subito convalidato. Certificazione valida. Quindi tutto questo allarmismo, facciamo i vigili, i carabinieri, i poliziotti, c'è un'applicazione molto semplice anche negli ambienti pubblici. Se questo serve a far sì che l'attività possa riprendere normalmente, che le attività economiche, che la gente si muova, perché non farlo? Dura la posizione del Presidente Pozze in merito alle manifestazioni annunciate a livello nazionale nei prossimi giorni contro il Green Pass. La trovo del tutto fuori luogo perché c'era la protesta quando i negozi erano chiuse, quando le attività erano chiuse. Allora ricordiamoci di quando è chiuso tutto. Allora in quel caso lì sapremo effettivamente capire qual è la valenza di avere uno strumento che ti permette di dire sì, do tranquillità a chi è a fianco a me, chi lavora con me. Con l'entrata in vigore della certificazione verde, obbligatoria per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, piscine, musei, molti cittadini chiedono ora che garanzie ci saranno invece sulla copertura vaccinale di chi in queste realtà lavora. Per il Presidente Pozze pubblicizzare la propria attività come Covid Free potrebbe essere un'operazione di marketing. Il valore aggiunto è esporre che all'interno della mia attività ci sono i miei collaboratori che sono vaccinati o io stesso che sono vaccinato perché non lo devo evidenziare. Anzi, metto in sicurezza loro e invito soprattutto a quelli che non danno questa certezza entrare nel mio negozio a differenza di altri. Intanto la Camera di Commercio qualche tempo fa ha chiesto in forma anonima ai propri dipendenti chi fosse disponibile a comunicare la sua situazione vaccinale. Il 90% si è detto favorevole e stamane è stato inviato un ordine di servizio tra coloro che hanno dato disponibilità per capire chi è immunizzato e chi no. Il tutto in forma anonima e questo spiega l'ente per mettere in campo eventuali meccanismi di protezione e dove è necessario spingere sullo smart working.